A causa delle emergenze in Italia ho dovuto ridurre le pubblicazioni sul canale. Mi sto attrezzando per fronteggiare il particolare momento che stiamo vivendo, per offrirvi il solito servizio con video di alta qualità e intrattenimento. Spero di regalarvi un momento di spensieratezza, come sempre. Ciao a tutti da Jota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Paddle Nights. Ringrazio ovviamente per la Free Key Lock Pickle. Andiamo a vedere subito il gioco e vediamo un po' cosa ci attende. Play. Salviamo nello slot 1. Ok, giochiamo con Mira. Che strani suoni! Ok. Quindi questa... Ok, abbiamo cambiato e... No. Non capisco, ma mi adeguo. No. Ok. Praticamente non possiamo tornare indietro. Se io prendo indietro non va. Dobbiamo fare il giretto. Ok, tab, cambio personaggio. Ok. C'è da essere qualcosa che si possa fare, no? Ti fa così, così, così. Questa fa così. Passiamo con lui. Sarà il carretto? Non capisco. Mi sono confuso. Ah, ok, ho capito. Ok. Era il mantello. Dobbiamo fare passare lei. Lei non deve passare nelle pozzanghe. Nel fango. Perché è una lady. E lui col suo mantello può passare e praticamente deve coprire il fango. Ok. Vai. Fatto. Dignità preservata. What? Bellissimo. Oh, ma c'è un mantellone gigante adesso. Allora. Ho sbagliato. Sì, Z. Perché così non la più. Ok. Aspetta, camminiamo un altro po'. Ah, no. Era meglio prima. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo se riusciamo. No. Ok. Perfetto. Dobbiamo posteggiarla lì a lei. Allora. Uno, due, tre. Ok. Posteggi... No, ho sbagliato. Ok. Ah, Z. Perfetto. No. Ah, se lei è sopra il mantello, lui non può camminare. Perfetto. Quindi, incomincia a essere interessante la cosa. Significa che no, dobbiamo fare così. Perfetto. Quella passa. Andiamo qui. Eh, no, non può. Adesso lei arriva qua e c'è lui. Eh, così. Eh, già. Non c'è abbastanza mantello. Ah, così. Ok. Fatto. Ok. Dignity Preserve. Excuse me. Eh, ok. Allora. C'è un trick qua. Sì. Ok. Torniamo indietro. Ah, c'è lei. Poi andiamo di qua. Vediamo se riusciamo a fare... No, no, ho sbagliato. Così. Ok. Grande. Ok. È un giochino un po' tricky... Di cose strane. Perfetto. Siamo arrivati all'1-4. Full time job. Allora. Oh, oh. Sì. Ah. Dovremmo andare qua, camminare così e fare passare lei. E la posteggiamo qua. Però lui può... Ah, così poi non può più tornare indietro. Eh, già. Giusto. Quindi è sbagliato. Quindi. Allora la posteggiamo qua. Lui arriva qua e cammina di qua. E la posteggiamo qua. Lui fa il giro. Ehm... Ehm... Vediamo se riusciamo a capire... Come farlo. Sì. Così. Fatto. Grande. Unaspected turns. Abbiamo il mantellone gigante. Allora. Vediamo. No, perché lì non... Ah, perché lì c'ha il coso. Il fangone. Allora. Il fangone. Passa di qua. Passa di qua. Vediamo se riusciamo a lei... farla passare da qua. No. Cacchio. No. Cacchio. Al contrario. Allora. Vediamo. Vediamo. Eh no. No. Allora. No. non può passare giustamente. È un po' tricky questo. Vediamo se riusciamo a fare così. Ok. Ok. Poi. Ok. Quindi dobbiamo fargli fare per forza il diretto di altro. Allora. Andiamo a metterlo al contrario. Allora. Allora. Così. No. Però. Così. Così. Ok. Adesso. Così. Ok. Giriamo lui. E lei può passare. Grande. Ok. Allora. Andiamo nell'1.6. Vediamo un attimo. Oh. Qua è abbastanza tricky. Oh. Lui deve girare così. Madonna mia. Incomincia a essere un po' un casino. Si. Allora. Vediamo un attimo. Quindi lei passa di qua. Quindi poi gira. Una. No. A meno che. lei la spostiamo e arriva qua quindi poi lui no non è sbagliato però vediamo e si è sbagliato sì 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 ok lui mi sono perso no allora normale che non contare mosse se ne facciamo così vediamo un altro lei passa cui però poi mi blocco cioè io posso farla passare in questo quadrato però poi mi blocco allora se la faccio passare qui fatto il giro sbagliato di nuovo allora facciamo così 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 lei cammina e arriva lì poi camminiamo gli facciamo il percorso così e le arriva qua poi da qui facciamo così wow questo era abbastanza tosto l'ultimo era abbastanza tosto ok bene per oggi è tutto spero che vi siate divertiti trovate il link in descrizione di questo gioco e come sempre sentimidici alla prossima bye bye ciao 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 ciao